E stasera sul palco del Belvedere di Ravello, del Festival di Ravello, ci sarà un robot a dirigere l'orchestra e Rodiman è stato messo a punto dal gruppo di robotica milato dal professore della Federico II Bruno Siciliano dirigerà con le sue braccia meccaniche i giovani dell'ensemble strumentale del Conservatorio Martucci di Salerno con il maestro Massimiliano Carlini.